Ora invece succede il contrario, il regime è un regime democratico, eccetera, eccetera. Però quella acculturazione, quella omologazione che il regime non è riuscito assolutamente a ottenere, il potere di oggi, cioè il potere delle civiltà di consumi invece riesce a ottenere perfettamente, distruggendo le varie realtà particolari, togliendo realtà ai vari modi di essere uomini che l'Italia ha prodotto in modo storicamente molto differenziato. E allora questa acculturazione sta discursendo in realtà l'Italia e non posso dire senz'altro che l'eurofascismo è proprio questo potere delle civiltà di consumi che sta distruggendo l'Italia e questa cosa è venuta totalmente rapidamente che non ci siamo resi conti a lì, in questi ultimi 5, 6, 7, 10 anni. È stata una specie di incubo, abbiamo visto i tagli, sono noi, distruggersi, distruggono e sparire, sparire, adesso risvegliandosi forse da quest'incubo e guardandosi intorno ci accorgiamo che non c'è niente da andare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.